Ciao, siamo Andrea, Elisa e Angelino e anche noi seguiamo Roma Antica 59, soprattutto Angelino. Sì, mi piace tanto. Ciao, ciao. Allora, siamo in via Baccina, qui c'è un portone storico, il 32, e guardate chi ci abitava qui, adesso vi faccio vedere. Guardate che bel portone. Che bel tipo di mascalzone quando fai gigetto, però sei un simpaticone quando fai gastone. Gastone, ho la donna professione, e mi faccio vedere, gastone, gastone. Ettore Petrolini, ecco qui, lui abitava al secondo piano? Sì. Beh, è un grande onore che avete avuto Ettore Petrolini che abitava qui, no? No, quell'ha incontrato, tu l'hai conosciuto? No. Eh, no, perché era già morto. Lui è morto nel 32, se non sbaglio. Guardate che bello. Che c'era 50 anni, quindi... Ah, giovanissimo, eh? Disse... Morire a 50 anni è... È una grande fregatura. Ah, si è accorto che è morto. E ciao, sono Valentino Rossi da Pesaro e seguo anch'io Roma Antica 59.